Ben tornati sul canale, siamo su Uglens, una demo, ho trovato questo giochino su Steam, dovrebbe essere un Tower Defense ma mi ispirava e quindi ho detto proviamolo insieme. Ragazzi vi annuncio, vi avviso che nel corso delle prossime settimane uscirà almeno un video su una demo o comunque su una versione di prova dei diversi titoli che, se spera dovrebbero uscire quest'anno, ne uscirà una settimana. Iniziamo da Uglens, allora vediamo... Signore, il Conte Porcula ha ordinato che l'avamposto venga ispezionato. Per molto tempo non si ebbero le loro notizie, se vogliamo essere lì entro domani mattina dobbiamo partire subito. Puoi comandare delle unità, ha l'unità di unirsi alla tua squadra, il che ti consente di interagire con vari oggetti sulla mappa. Puoi ordinare le tue unità premendo R, prendendo un remoto shift il tuo personaggio può correre. Non appena il tuo eroe sarà esausto potrai ripristinare la resistenza attorno al fuoco, il follo guarisce anche tutti intorno. Ok. Quindi. Non raccogli le unità e il gruppo e vanno a un posto. Cari, raccogli le unità, ok. Cos'è questo? Strana nebbia. Devi essere vigile, morsce o crepamo. Oh, arrivano... Ma proprio dei cazzo di veria comunque, ok, ok. Me ne è morto qualcuno? Eh, mi sono proprio zio. Che tipo di piante sono queste? Mettono la nebbia velenosa, bruciatele. Con l'aiuto di un lanciafiamme puoi combattere le piante nemiche. Ok. S'arrivato. Piante velenose hanno bloccato le uscite della gola. Nel cimitero sono apparte strane tombe e i mostri ci hanno attaccato tutta la notte. Le barricate alla torre furono distrutte e questi sono tutti sovravvissuti. È necessario recuperare... No, prepararsi per il prossimo attacco e al mattino cercare di raggiungerlo a un posto più vicino. Ci sono ancora materiali nel baule. Raccoglili e ricostruisci la difesa. Ogni giorno il mercante avrà il tuo... Verrà il tuo insediamento con nuovi beni. È possibile interagire con la maggior parte degli oggetti sulla mappa in un certo modo. Prova a dare ordine alle tue unità e guarda cosa succede. Intanto vuoi venire con me? La cassa dovete aprire? Ragazzi, la cassa dovete aprire? No? Non lo so. Vabbè. Ok, ho preso una ghianda. Indi per cui... Guarda gli edifici tanneggiati dando ordine all'unità base. Eh. Sì. L'unità base dovrebbe essere questa. No. Ok. A posto così. I lavoratori hanno alcune interazioni uniche come la rimozione dei detriti. Ok. Ah, quello sta a continuare a lavorare. Poi dobbiamo fargli smontare i detriti. Questi qui. solo in due ci possono andare. Ah, con le ghiande si costruisce. Ok. Andategli una mano. Per edificio, penso solo. Dobbiamo distruggire le tombe del cimitero. Il lanciafiamme senza carburante. Ricordalo... Ricaricalo prima di andare al cimitero. Ok. Il lanciafiamme ha poco carburante. Per rifornire il lanciafiamme devi utilizzare le capsule di carburante mentre nel tuo gruppo. Ok. Intanto... Attrezzatura. Eh, non... Non mi... Fuel. Ok, eccolo qua. Eh, e? Ma scusa, tipo il mouse non va... Ok, tutto... Io non so cos'è sta roba. Non c'è scritto nulla. Non mi dice che cos'è. Questo è fuel. Ok. Queste sono bombe. Questa... Ah, penso questa sia la... Il mio mazzafrusto qua. La mazza chiudata. E questa... Ah, questo è il vestito. Ok, perfetto. Eh. Sono zombie. Io vorrei veramente tanto capire che cazzo rola... Ah, posso menar pure io. E... Dove sono tutti gli altri maiali? Ho scappato? Perché? Sembra che stia arrivando qualcosa di grosso. Organizziamoci sulle barricate. Madonna. Eh, sì, effettivamente sembra che qualcosa di grosso stia arrivando. Può ordinare l'unità di sorvegliare la barricata premendo S. Non lo voglio, vedi? L'arciere può essere inviato alla torre. Sulla torretta ha una portata più lunga e una migliore precisione. Posso di... C'è una granata contro i nemici. Ok, non l'ho presa la granata. Ho posizionato le granate sulla barra delle scorciate premendo Tab. E mo lo facciamo. Sì, intanto questi continuano a ammenassare. Settemolo su due. Oh, cazzo, Rola. Becca, va. Ci ritiriamo. Fuggire racconta agli altri cosi che sono qui. Li tratterremo. Namosene. Oh, ma ci sono i ragni, ci sono. Non riesco a ammazzarli, invece. No, metate, no. Via, 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 via. Via, namo, 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 namo. Ritira. Ritirata, ritirata strategica. Ok. Tutto è questo. Congratulazioni, questo è un insediamento di maiali liberi. Chi sei e perché sei venuto da noi? Il nostro avamposto è stato distrutto da alcune creature che non avevo mai visto prima. Sono venuto ad avvertirti del pericolo. Quindi le voci sono vere. Un drago ha attaccato Helgen. Deve aiutarci a prepararci per l'attacco. Che cosa ha quest'asino? Scusate. Madonna. Ci sono posti di difesa sui lati occidentali e orientali. Costruisci barricate lì. Comunque lo stile grafico mi piace. Tipo, mamma mia, un botto. Un botto. È bellissimo. Ci sono posti di difesa sui lati occidentali e orientali. Costruisci barricate lì. Ok. Dobbiamo andare a costruire barricate. Intanto... Abbiamo gente. Lui non viene con noi. Mi serve qualcuno che mi raccoglie le ghiande. Lui viene. Ogni giorno un commerciante viene da te portando di prigionieri che puoi acquistare per sviluppare il tuo insediamento. Ah, ok. Ah, vedi. Però io devo dare le ghiande. Cinque. E qui? E quindi? Ok. Ho continuato a raccogliere un attimo le ghiande qui. Ho due fabbri venite con me. Ci dia da fare. Ok. Mettiamo ste ghiande qua che non so. Ah, la fortifichiamo. Ok. Sta a costruire. Lei con me. Ah, ok. Perché ho fatto... Ho fatto la barricata. Ora è il momento di costruire il lavoratore dell'alchimista. Qui potremo condurre esperimenti per lo sviluppo del nostro insediamento. Se sei a corto risorse e raccogli l'importo richiesto, sai già come farlo. Quante ghiande... Ah, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Spadabomb! Vai! A costruire. Lei? A costruire. Oh, a costruire! Prego. Prego. No, solo uno può costruire. Ok. Va bene. Va bene, va bene. Tu qua. Tu con me. Le ghiande non me le... Ah, sì, vedi. Me ne raccolgono pure in due le ghiande. Perfetto. Questo sta a fa... Non ci sono altri tizi che vengono con me, no? S per interagire, ma purtroppo non mi ci fa interagire. Vabbè. Bravi amici miei, vedi con me. Guarda, gli una mano non se ne parla, perché non se ne parla. Dove aver costruito qualcosa, fa interagire la tua squadra con esso. Ogni edificio ha il suo scopo unico, provalo. Un solo laboratorio non basta, qualcuno deve lavorare lì. Mandano degli operai al laboratorio. Prego. Ora abbiamo un laboratorio e un alchimista, ma per poter indagare su qualcosa... Ha bisogno di ispirazione, per così dire. Penso che tu abbia già visto strani funghi, raccogli li. Ok, perfetto. Dopo un po' vi offrirà un paio di idee su come migliorare l'insieme della difesa. Sicuramente se deve drogà, va in botta e poi gli vengono le ispirazioni. Ok. Ok. Tiè, becca del fungo. Non mi fa dare il fungo, perché non mi fa dare il fungo? Ok. Becca del fungo. Hai visto come gli piacciono i funghi? Tuttavia c'è un problema. Creano dipendenze, ogni volta gli era sempre di più. Perfetto. Inoltre è necessario costruire una barricata a ovest e inviare un lavoratore sulla barricata per protezione. Allora. Tanto... Mandiamo un lavoratore qui. E poi... E poi... Costruiamo... L'altra barricata... A chi... Vai. Mi sembra che un vampiro si sia insediato nella vecchia cripta del cimitero a ovest. Se è vero devi sbalazzarti di questo vampiro prima che sia troppo tardi. Ok. Ehm... Signori. Con me. O forse lo posso fare da solo. La cripta. Ma... Nooo... Devo andare a chiamare gli altri. Ora torniamo subito alla cripta. No, da... Ci attaccano. Io ero tornato... Ehm... Il commerciante porterà un altro detenuto nei prossimi tre giorni. Un'intenda fornirà due spazi abitativi. Nello scrigno le prossime tre aperture conteranno altre tre ghiande. Il falo aumenta... No, voglio questo. Il commerciante porta altri... Altra gente da faunire. Ero tornato... Un attimo qua per prendere i maiali che mi servivano e ci hanno attaccato. Dobbiamo ricostruire la cripta. Sì, la cripta. Dobbiamo ricostruire la barricata. Entramo qua dentro? Non... Non so loro che devono sfondare la cripta. Noi qua dovevamo ancora... Tirare su roba. Ok. Non vedete se tizio qua... Fungati. E creami cose. I mostri attaccano al lato sinistro. Namu. Namu! Uomini! A pizze! A pizze e via! Madonna, l'abbiamo sventrati malissimo. Dove cazzo? Ma perché vanno? A volte ce vanno un due, a volte no. Non capisco. Sono confuso. Becca. Costruitemi per favore. Questo sta ancora a lavorare. Ma serve un ufficio che mi permette di poter cambiare. Se è vero devi sbarazzarti di questo vampiro prima che sia troppo tardi. Eh, ho capito. Come? Oh, guarda qua. Che bella fortezza che mi ho tirato su. Questo sta ancora a carissimo amico. Gizmo, non abbagliare per favore. Grazie. Effettivamente una cucina. Puoi segnare i lavoratori a lavorare nella tua fattoria. Puoi coltivare i ghiandri se qualcuno lavora lì. Ma no. Un recycler. Puoi spogliare le regole del loro equipaggiamento riportato allo stato standard. Oh, questo devo fare io. Ma come? Cazzarola si fa? Ok, ma ne serve un altro che sia recycler. Un altro che sia recycler, per favore? No? Nessuno? Vada, signore. Oh. Vi do l'alchimista per il mio risultato. Non adesso. Madonna, mi ci mette l'anni di Cristo. Aspettiamo. Motte. E so dolori, io già lo so. Eh, lo sapevo. Lo sapevo io. Uno si è dato, comunque. Quello non è armato, è scappato via. Torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. De giorno? Madonna. De cattiveria proprio. Venite con me. Ok, me ne serve un altro che lavora normale, così. Ok. Allora, sto capendo, eh. Sto capendo. Vorrei reclutare un altro maiale. E poi andiamo... Poi andiamo... Oh, sta andando a cabar di cata un'altra volta. Che palle. Vieni con me. Poi andiamo alla cripta. Io so ferito, comunque. Mi stanno aggonfiando. Ok. Dobbiamo andare al falò per riposare, giusto? E per riprendere vita. Oh, sì. Si ha curato le ferite. Perfetto. Molto bene. Tiè. Mi servono le ghiande. No, appena altri maiali. E poi torniamo a sta cavolo di cripta. Vediamo se gliela famo sto giro, eh. Curiamoci. Forse è un arciere. No. Alla cripta, signori. Ma dai, se sono dati. Ma no. Ma sono rimasto da solo. Ma sono rimasto solo io. Fanculo. Entro comunque nella cripta. No? Non si può? No. Ma... Ma chi se ne frega dei mostri? Ma voglio entrare nella cripta. Ma fatemi entrare nella cripta. Ma perché? Che palle. Ma cripta. Non voglio scuse. Oh. Subito che scappa. Ma c'è ancora un pezzo di ferro. Non ce posso credere. Possiamo entrare adesso? Non posso richiedere molto più tempo. Oh. Qua c'è uno. Aiuto. Ecco. Ah. Mi sa che ci compiono. Questa sensazione. Sì. Sì. Siamo entrati nella cripta. Per morirci. Da. Stronzi. Allora. Ragazzuoli. Io direi che mi fermo qua. Sì. Direi decisamente che mi fermo qua. Allora. Il gioco su me potrebbe essere carino. Specialmente per gli amanti dei tower defense. Simil gestionali e quant'altro. Mi fermerei qua. Perché comunque. Si. Ripeto. Questa è una demo. Quindi c'è anche le limitazioni del caso. Ma. Ma. Qualora foste interessati. Comunque il gioco lo otterremo d'occhio. E poi. Chissà. Quando. Arriverà. In accesso anticipato. O che verrà rilasciato definitivamente. Non lo so. Quello che accadrà. Magari lo riproveremo insieme. Ragazzuoli. Noi ci vediamo alla prossima. Io aspetto qua sotto nei commenti. Buona sua vivenza a tutti. Noi ci vediamo alla prossima. 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 Grazie a tutti.